Sono preso il treno come ogni mattina, ho conosciuto Mary, o come si chiamava, sono andato a scuola ma con lei, mi ha portato a comprare Play. Locale 1983, locale 1983, locale 1983, locale 1983. Mi ha portato insieme un negozio, avevo un po' di rumo in una tasca, mi ha invitato da un compleanno da un'amica, era un'itbis norma con il grano. Locale 1982, locale 1982, locale 1982, locale 1982, locale 1982. Abbiamo deciso di cambiare disco, poco energia e ragazzi, in ogni stanza qualcosa di diverso, ci ne siamo andati con il televisore. Locale 1983, locale 1982, locale 1982, locale 1982. La data è un nome per l'inferno. Ancata e ritorno per l'inferno Ancata e ritorno per l'inferno Ancata e ritorno per l'inferno